L'ente di Battipaglia seleziona quattro vigili urbani da assumere a tempo indeterminato e pieno. Il titolo di studio richiesto per accedere alla procedura concorsoale è il diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale. Fra gli altri requisiti, oltre ai canonici previsti per legge, è quello dell'età compresa tra i 18 e i 40 anni alla data di pubblicazione del bando, ma anche la patente B. Inoltre, non essere stati ammessi a prestare servizio civile in qualità di obiettori di coscienza o, in alternativa, aver effettuato rinuncia a non essere contrari all'apporto d'armi e all'uso delle armi. Non trovarsi, nella condizione di disabile, possedere i requisiti per il conferimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza. Occorre anche un'adeguata conoscenza dell'uso delle apparecciature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese. La domanda va presentata al Comune entro e non oltre il prossimo 4 luglio all'ufficio protocollo o a mezzo peccoprotocollo.comune.battipaglia.sa.it Grazie mille Grazie mille